Recuperiamo un altro dei vecchi video che avevo rimosso da YouTube per via della mancanza di commento audio e, come nel caso di avere classifiche di bellezza e di vermature d'oro, lo riproponiamo stavolta con commento audio. E questo è un video simile alla suddetta classifica di bellezza perché stavolta parliamo di vermature di Asgard. Ora, come nel caso delle vermature d'oro, è un video soggettivo come devono essere soggettive per forza tutte le classifiche di bellezza. Quindi questa è la mia, ovviamente la vostra può essere totalmente diversa. Ma per quanto mi riguarda, all'ottavo e ultimo posto metto l'armatura di Odino, indossata da Pegasus. L'armatura di Odino non è brutta di per sé, ha questo aspetto da Cristauro, se non che non ha niente della magnificenza dell'armatura di un dio. A me non piacciono le armature troppo pesanti e la Hypnos o Thanatos, però oggettivamente l'armatura di Odino copre il corpo di Pegasus meno di un'armatura d'oro. Sembra quasi una V3 per livello di copertura. E non ha niente che la renda qualcosa di più rispetto ad una normale armatura. Se non sapessimo che di Odino fosse una semplice corazza, per esempio, d'argento, visto il colore, nessuno potrebbe dire niente. Non ha niente di brutto di per sé, quindi ma è un'armatura abbastanza anonima, il cui unico elemento distinguibile è la spada Balmung. La spada è sicuramente bella, però non basta a dare personalità a questa armatura. E anche il totem è abbastanza amorfo. Sembra questa statua di cristallo, questo fodero per Balmung, ma non ha niente di che. Non è una forma che si possa riconoscere in qualche modo, non ha riferimenti mitologici, non rimane impressa. Quindi non la amo particolarmente, mi piace più il concetto che non la resa, e quindi la metto tranquillamente all'ottavo posto. Allora, il settimo posto per me c'è l'armatura di Mime, l'armatura della stella Eta della Lira. E l'armatura di Mime, adoro il colore e adoro quei coprispalla simmetrici, il fatto che abbiano forme diverse, coprendo e proteggendo, guarda caso, di più il braccio che regge la cetra, rispetto all'altro. Nel complesso, quello che penalizza molto questa armatura, per quanto mi riguarda, è il totem. Perché il modo in cui tutti i pezzi vengono in qualche modo incastrati per formare il totem, che poi diventa quasi una grossa D, è un po' forzato. È vero che le armature solo anime non sono così ragionate, come quelle, per esempio, del manga, però ciò non toglie che mi sembra un po' una forzatura in modo in cui appunto tutti questi pezzi si avvolgono uno su altro formando questo totem, con l'aggiunta anche delle stringhe che non sappiamo bene da dove vengano fuori. Come detto, l'armatura di Mime mi piace però molto il colore, ma indossata non ha niente che faccia pensare al simbolo del cavaliere. È impossibile riconoscere l'armatura in una lira una volta che viene indossata, mentre se non ci fosse il totem sarebbe assolutamente anonima. In realtà è molto simile all'armatura di Orfeo del primo film, un pochino più elaborata appunto per esempio nei coprispalla, però anche quella di Orfeo nel primo film è un'armatura carina, ma non particolarmente azzeccata. Inoltre non amo molto il cinturino con quella forma V capovolta che protegge l'addome ma lascia scopertere anche il bacino, che insomma sono una parte abbastanza importante. Sesto posto invece per l'armatura di Thor, l'armatura della Stella Gamma. Ora, l'armatura di Thor già mi piace di più, è una versione tutto sommato più nordica, se vogliamo, dell'armatura del Thor. Infatti due a parte l'enorme stazza condividono queste corazze piene di spuntoni, nel caso di Thor, su coprispalla ed ermo. Mi piace molto proprio ermo a forma di testa di serpente e mi piace il modo in cui il viso di Thor, che ha anche questa barbetta, questo piccolo pizzetto, sia in qualche modo incorniciato all'interno dell'armatura. È anche lei un'armatura molto semplice, è un'armatura che in forma di totem sembra perdere alcuni pezzi, perché per esempio c'è quella forma attorno alla testa del serpente, quella che sarebbe un po' il ventaglio, il cappuccio del cobra, che una volta che l'armatura è indossata, scomprete tutto, al punto che Nermit è stato addirittura trasformato in uno scudo, che sarebbe stato anche carino dare al cavaliere. Per conto ci sono queste asce che invece sono completamente assenti nel totem, ma ovviamente il cavaliere indossa combattendo. Ed è una differenza la comparsa di queste asce, l'assenza di quello cappuccio, che un pochettino mi fanno storcere il naso. Rimane però un'armatura semplice, perché sicuramente non è un'armatura con grandissime particolarità a parte l'ermo, però efficace, dai, non è male. In realtà è semplicemente che preferisco le altre, ma non c'è niente di brutto in questa corazza. Alla quinta posizione va l'armatura di Megress, l'armatura dell'ametista. Allora, l'armatura di Megress si trova in una situazione simile rispetto a quella di Mime, cioè è impossibile riconoscere qualcosa nella corazza indossata, solo che stavolta pesa di meno, perché l'ametista non ha un vero e proprio simbolo, non lo si può identificare con una forma classica. E quindi l'armatura riesce abbastanza bene a rappresentare un po' questa corazza un po' amorfa, con quell'ermo demoniaco, con quegli occhi malefici, quei dentini, che sono molto adatti alla personalità di Megress. In qualche modo, già dalla forma dell'armatura, dalla corazza, si capisce che tipo di uomo e di personaggio sia Megress. Mi piacciono molto il colore, le sfumature di blu dell'armatura, ma mi piace molto anche il totem per la presenza dei teschi, perché il montare l'armatura su dei teschi è un colpo di genio assoluto. È quasi impossibile riconoscere i pezzi, sfido chiunque a dire dove siano, per esempio, gli schinieri là dentro, mentre ci sono un sacco di pezzi anonimi che escono dagli occhi dei veri teschi, questi cristalli. Però ce non toglie che quest'elemento molto ugubre, appunto, di montare la corazza su degli scheritri, dà un certo fascino all'armatura che poi ben si addice sia al personaggio, sia al tipo di uomo che ha nella storia. Come detto, non amo tantissimo il fatto che non abbia una forma vera e propria ed è anche questa una corazza molto semplice, una corazza che copre quanto una buona V3, molto leggera, molto aderente, priva di rigori particolari, ma che tutto sommato, appunto, si distingue abbastanza grazie a questa geniale trovata del totem. Posizione numero 4 per l'armatura di Vuxor, steva Epsilon. Ora, Vuxor mi piace di più delle precedenti perché è molto più semplice identificarla con il suo simbolo. Il rupo non è evidente perché la maschera può essere interpretata in vari modi, però quei bracciali con gli artigli sono sicuramente un elemento che distingue molto il personaggio e sono anche utili perché vediamo Vuxor utilizzarlo in battaglia contro Sirio per ferirlo agli occhi oppure per pugnalarlo all'addome. Quindi sono un elemento estetico che però non sono soltanto appunto estetici come quelli di Thor, ma sono anche pratici. Poi l'armatura di Vuxor ha un colore assolutamente stupendo. Da questo punto di vista credo che sia la mia seconda preferita tra le armature di Asgard. Quello che non amo è il cinturino in pellicciotto che oggettivamente fa un po' ridere. Molto prima dei Cavalieri del Terzo Film o dei Cavalieri di Omega abbiamo questo personaggio col cinturino in pelliccia che insomma è un po' ironica la cosa. Anche perché non è ovviamente un pezzo di armatura, non è presente nel totem. Però d'altra parte vuol dire che un totem è privo di protezione per la cintura, per l'addome che insomma è una zona abbastanza importante. Il totem è stupendo, uno dei più belli perché non è soltanto la forma di rupo ma è anche un rupo particolarmente aggressivo, minaccioso. Alcuni pezzi scompaiono in maniera un po' misteriosa per esempio la coda non si sa bene a che fine faccia però ecco è un totem che si distingue immediatamente la figura che rappresenta e viene resa molto molto bene con in più l'aggiunta di quegli artigli anteriori che danno un senso di minaccia aggiuntivo. Siamo al podio posizione numero 3 per l'armatura della tigre l'armatura di Aukle Mizzel messa qui insieme perché si tratta della stessa armatura con due colori diversi quindi è impossibile separarle. Tra le due preferisco la versione originale verde soprattutto il verde è un pochino più chiaro del totem ma anche indossato è un verde abbastanza scuro da distinguersi dal verde di Sirio per esempio e deve essere abbastanza evidente. L'elmo è stupendo io adoro gli ermi a forma di testa e di animale e questo è uno dei più belli ma mi piace anche il fatto che sia una corazza che copre tutto il corpo lasciando scoperte zone estremamente limitate da questo punto di vista è paragonabile ad un'armatura d'oro per copertura però non è mai pesante il che si adatta ad un personaggio come Mizzel che è molto agile e scattante o ad uno come Alokor che pur puntando meno sull'agilità punta comunque molto sulla velocità degli attacchi e quindi un'armatura pratica sicuramente leggera senza elementi che l'appesantiscano gli stessi coprispalla sono ampi, larghi ma sottili e appunto premio quest'elmo stupendo perché l'idea di incorniciare il viso del capriere tra le zanne della tiglia dei denti a sciabola è geniale giusto il naso nero mi fa un po' ridere sinceramente avere quel naso lì fa un pochettino osso yogi ma a parte questo è una corazza che mi piace moltissimo ed è arricchita anche da un mantello che la maggior parte delle armature del nord non ha posizione numero 2 però ci va Artax l'armatura di Artax stella beta è stupenda sia per l'accostamento di colori tra il rosto e il bianco argento sia per quel braccio la forma di testa di cavallo come nel caso di Mime è un'armatura asimmetrica ma è un'asimmetria che in maniera molto intelligente viene resa appunto sul bracciale come poi verrà fatto con la V3 di Sirio per esempio l'idea di mettere la testa del cavallo non nell'elmo come nelle altre armature ma in un pezzo diverso come in questo caso il bracciale rende molto bene e rende unico Artax perché non ci sono altri personaggi in senseia che portino appunto la testa del simbolo sul braccio appunto fino alla V3 del dragone un po' la V2 ma molto meno inoltre è un'armatura con delle tinte molto belle se non si fosse capito mi piacciono molto i colori delle armature di Asgard questi contrasti che ci sono tra varie tinte e nel caso di Artax è un contrasto anche intelligente perché è bianca e rossa argentata e rossa argentata o bianca come la neve rossa come la lava quindi simboleggia abbastanza bene il doppio potere di Artax il totem anche in questo caso è molto bello mi piace la posa e il modo in cui si è riuscito a rendere questo cavallo a otto zampe comunque leggero perché nonostante ci siano appunto queste otto zampe però non sono tali da appesantire la figura come in altre armature ci dovremmo chiedere che fine faccia da un sacco di pezzi ci sono delle licenze artistiche evidenti però il risultato è buono e quindi non importa ne vale assolutamente la pena ma al primo posto la mia armatura di Asgard è preferita nonché una delle mie armature preferite di tutto senza eia è l'armatura di Orion i draghi hanno sempre il ruolo fascino non c'è niente da dire in questo caso abbiamo un'armatura sempre asimmetrica con l'idea di avere una testa come ermo ma l'altra come coprispalla che rende il personaggio iconico e non è l'unica parte asimmetrica perché anche i bracciali lo sono ma con un bel tocco di genio il bracciale che ha più spuntoni si trova da un lato opposto rispetto a coprispalla con la testa di Drago quindi c'è questa asimmetria ma anche questa simmetria indiretta deve avere spuntoni sulla spalla destra e sul braccio sinistro senza appesantire troppo Orion è un'armatura sicuramente massiccia Orion è un personaggio che punta meno sull'aggività rispetto a Miser o Alcol ma è un'armatura che pur essendo massiccia non è pesante questo lo sto dicendo di quasi tutte le armature di Asgard ma fondamentalmente è vero ha un colore particolare è vero che non si sono mai visti draghi blu o viola però a tempo stesso se fosse stato verde si sarebbe confusa troppo con quella di Miser inoltre il fatto che Orion sotto indossi una tuta rossa crea un bel contrasto visivo mi piacciono molto anche quelle avi sulla schiena quelle avi raccolte più richiuse su se stesse è un peccato che Orion non lo usi mai perché sarebbe stato carino vedere lo svolazzare un po' in giro è una corazza coprente come un'armatura d'oro ma la cosa stupenda è il totem perché inventandosi dei cori molto sinuosi che sono quasi impossibili infatti nel myth sono molto più meccanici di così e aprendo le ali si crea una figura di drago che è molto diversa rispetto a quelli di Sirio ed è molto tipicamente nord europea se il drago di Sirio ha quel muso quei baffi da drago orientale il drago di Orion è tipicamente il drago occidentale il drago europeo è un'armatura insomma di cui mi piace tutto non mi dilungo ulteriormente ma è un'armatura che voglio premiare perché il drago tira sempre ma perché è stato anche molto intelligente sia il concept che il modo in cui è stato reso quindi questa è la mia classifica di bellezza delle armature di Asgard scrivete pure voi la vostra nei commenti qua sotto da me questo è tutto alla prossima ciao